Eccoli, i guardiani della verità sono loro e dedicata a loro ai giornalisti impegnati e presi di mira alla copertina dell'anno di Time del 2018, dal saudita Khashoggi alla Filippina Maria Ressa. Vediamo con la corrispondente Giovanna Botteri. Torturati, uccisi, perseguitati, minacciati, imprigionati, perché non hanno taciuto, perché non si sono fermati, hanno voluto fare fino in fondo il loro lavoro, raccontare i fatti, scoprire la verità. Jamal Khashoggi, massacrato nel consulato saudita di Istanbul, Maria Ressa, chiusa nelle carceri filippine, Capital Gazette, il giornale di Annapolis dove cinque persone sono state uccise da un folle armato, Wallon e Kai Oso, detenuti in Myanmar. Sono loro i guardiani della democrazia, le vittime della guerra alla verità, le persone dell'anno scelte per il 2018 dal settimanale Time. Ci siamo concentrati quest'anno sui giornalisti, quelli sotto attacco, in alcuni casi assassinati, arrestati, messi al bando o che hanno dovuto assistere ad una strage nella loro redazione, spiega Sam Jacobs, caporedattore dei Time. L'immagine del saudita Khashoggi, dei suoi assassini, la registrazione delle sue implorazioni prima della morte, Maria Ressa e la sua lotta solitaria contro le brutalità della dittatura duterte, i due giornalisti Reuters di Myanmar, che hanno denunciato il genocidio dei Rohingya, sono i difensori della libertà di informazione, base di ogni società libera. Senza la verità, scrive Time, la democrazia non esiste.